Ci sono quartieri che non hai mai visto. Sai che significa fare il sindaco in questa città? A che serve ricostruire un intero quartiere per ritrovarsi con gli stessi identici problemi? Di che parliamo? Di sanità, scolarizzazione, sicurezza o di diritti delle donne? Di che parliamo? Parliamo di persone che causano problemi. Qui c'è la più alta concentrazione di stranieri del dipartimento e il record di criminalità. Non te ne sei accorta? Attenti! Ci è capitata un'occasione d'oro. Sono anni che proviamo a strattare questa gente. Non li sfratterò il giorno di Natale. È il suo modo di usare la polizia? È incomiabile, ma è inutile. Tanto resteremo sempre e comunque la feccia della società. Non si può essere solo arrabbiati. Non si può! Se siamo stufi di essere governati sempre dagli stessi, sta a noi agire! E tu come ti definiresti? Una donna francese di oggi.